Una telecamera di sorveglianza ha ripreso Smith a Des Moines. E risulta partito in aereo da Tampa subito dopo aver compiuto l'omicidio. Hai risolto 15 omicidi in 15 ore. Sarai fiera di te. E sono viva grazie a te. L'ho calato giù io. E sei stato grande. La visita medica dopo un sequestro di persona non è facoltativa, Abby. Ti stanno aspettando, muoviti. Lo so, scusa, Etty, ma devo fare prima una cosa molto importante. Cosa ci può essere di tanto? Abby, in linea fra 30 secondi. Questa. Gibbs, Gibbs, io sto bene. So che stavate venendo a salvarmi, ma i ragazzi di Los Angeles sono stati grandi, davvero. Sapessi cosa fanno con una manichetta al t'incendio? McGee, avevi ragione. Questo posto è super. Certo, si sta meglio da noi. Perché nessun posto è meglio di casa tua? Non vedo l'ora di riabbracciarli. Vieni, ti mostro una cosa. Abbiamo eliminato lo spettro. Lo so che non avete i mezzi, ma vi manderemo dei fondi per cercare le prove che Smith è stato lì nei giorni dell'omicidio. Vuol dire che prima avrei dovuto consultarmi con lei? No. La squadra sta facendo il lavoro di mezza giornata e mezz'ora. Grazie. La tua rotta era giusta. Grazie. Questo è il rapporto della polizia di Boise. Molto bene. Anche lì una telecamera di sorveglianza ha immortalato il viso dello spettro al suo ordinario bordo.